La Champions vive le sue due notti di passione per designare le sue semifinaliste e solo il Real Madrid, che gioca domani a Dortmund partendo dalla dota dei tre gol d'andata, ha in pratica la qualificazione in cassaforte. Bayern e Atletico dovranno difendere il prezioso 1-1 esterno con United e Barcellona, mentre ci vorrà l'impresa al Chelsea per rimontare l'1-3 ottenuto dal PSG. Ma gli infortuni incalzano e se Diego Costa è incerto non ci sarà sicuramente Ibrahimović. Il talento dello svedese servirebbe nella battaglia di domani a Stamford Bridge. Il Chelsea di Mourinho ogni tanto gira a vuoto, ma l'esperienza e la qualità del gruppo dicono che una rimonta non è utopia. Il PSG infatti è una ricca squadra in costruzione a cui manca un po' di esperienza. La semifinale sarà portata di mano se non perderà la calma. Meno tensione al Bernabeu, dove il Real dovrà controllare le velleità del Borussia Dortmund. Mercoledì invece ci sarà il match clou tra Atletico Madrid e Barcellona, sfida apertissima dopo l'1-1 del Camp Nou. Al Bayern infine basterà lo 0-0 per eliminare un Manchester United che pure ha tirato fuori l'orgoglio e sta risalendo la china nella complicata transizione del dopo Ferguson.